Quando dopo la pubblicazione nel 1632 del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Galileo fu costretto alla biura, erano passati un paio di secoli dalla prima stampa di un libro con la tecnica dei caratteri mobili inventata da Gutenberg, ma il contrasto tra chi vuole limitare e chi invece difende la libertà di stampa è sicuramente più vecchio dell'invenzione della stampa stessa e risale probabilmente a quando fu inventata la scrittura. A Maestre per tutto maggio il cammino dell'informazione e della libertà di stampa può essere percorso attraverso le immagini di francobolli italiani e stranieri esposti nell'ufficio postale maestra centro di piazzale donatori di sangue. Tra poste informazione d'altronde il connubio è sempre stato forte. Prima dell'avvento del telegrafo i servizi postali sono stati assolutamente strategici per lo sviluppo dell'attività giornalistica e con l'avvento del telegrafo e dei servizi telegrafici ci fu una svolta ancora più strategica che ha dato il via allo sviluppo anche del giornalismo a livello nazionale e non solo. Questa sintesi è ben rappresentata da Matilde Serrao, prima telegrafista, quindi scrittrice, giornalista e fondatrice di svariati quotidiani nella seconda metà dell'Ottocento. Negli uffici postali di piazzale donatori di sangue 36 pannelli affrontano il tema passando per le gazzette veneziane, i grandi giornali e i grandi giornalisti fino alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Il termine gazzetta peraltro arriva proprio da Venezia. Nel 1536 la Serenissima pubblicava un foglio settimanale di 4-8 pagine sull'andamento della crisi con l'impero turco al prezzo di due soldi. La moneta da due soldi era detta gazzetta. Ai francobolli si affianca al termine del percorso la grande mappa della libertà di stampa di Reporter Senza Frontiere che mette l'Italia al 58esimo posto mondiale. Noi con questa mostra abbiamo voluto porre all'attenzione dei nostri clienti, cittadini che frequentano l'ufficio, degli spunti di riflessione, sperando che poi tra un bollettino e una raccomandata si portino a casa una riflessione in più da condividere in famiglia e che arricchisca il dialogo quotidiano e anche magari la condivisione di temi importanti.